Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi vi propongo un video diverso dalla solita videoricetta, un po' particolare perché è un'intervista. Un'intervista che è un giornalista, Stefano Caselli, che conduce un programma Buone Cose, un programma che tratta proprio delle buone cose nel nostro territorio. Insomma è venuto qua nella mia cucina, in questa sala, proprio in questo tavolo, vedrete che intervisterà Giorgino. Giorgino ormai lo conoscete tutti perché è un idolo di YouTube, è molto amato, vedo dai commenti che mi scrivete sotto i video, è un personaggio veramente eccezionale, diciamo. Praticamente lui si racconterà da quando ha cominciato, come ha cominciato, fino ai giorni nostri che lavoriamo noi insieme qua nella mia cucina o nel suo laboratorio. Spero che il video vi piaccia perché ho unito, siccome è andato in onda in due puntate, ho unito i due pezzettini della puntata, le ho uniti, spero di aver fatto un bel lavoro, ma poi giudicherete voi lasciando un mi piace in fondo al video o iscrivendovi al canale. Mi raccomando, ho creato un canale WhatsApp dove metterò sotto a questo video il link che se ci cliccate sopra con WhatsApp vi iscrivete al canale. Il canale è assolutamente anonimo, non verrà visualizzato il vostro numero, però io riesco a informarvi o a mandarvi i link dei nuovi video o qualche foto che magari faccio in giro o qualcosa di inedito, la pubblico e insomma potete dargli un'occhiata. È assolutamente gratuito e anonimo. Detto questo vi lascio il video perché mi sono già dilungato un po' troppo. È un video divertente, dai godetevelo. Un saluto da Davide, ci vediamo prossimamente. Bene, vogliamo chiudere questa puntata di Buone Cose parlando di tradizioni, di tradizioni vere, di tradizioni di campagna perché nel mese di gennaio ma anche nel mese di dicembre insomma era tradizione nei nostri territori rurali, definiamoli così, fare il maiale. Non è che uno si metteva, no, proprio fare il maiale significava preparare la carne per la conservazione, magari qualcosa si poteva consumare anche subito. Insomma ne parliamo con un vero esperto, un signore che ha una storia molto molto particolare, Giorgio Artioli, benvenuto a Buone Cose. Altrettanto a voi ragazzi. Detto Giorgino, giusto? No, mi raccomando eh. Giorgino, quindi devo chiamarla così. Altrimenti se lei mi chiama Giorgio Artioli che mi conosce. Appunto, Giorgino. Giorgino che però non nasce, fa anche rima, Norcino, ma nasce Muratore. Mi spieghi innanzitutto com'è sta storia qua perché è da qui che risaliamo le tradizioni. Andremo molto indietro, facciamo però in poche parole glielo dico. Sì. Ho smesso di andare a scuola alla quinta elementare, 15 giorni dopo avevo già il posto a Modena da fare il ragazzo di bottega. Ok. Lì a Malmusi, Angolo, Prampolini, portare via le spese e recuperare il pane. Ok. Poi alla mezza che il negozio chiudeva, andavo in via Mascharella numero 20 e servivo in tavola da una signora. Servivo sulle 30 persone al giorno anche qualcosina in più. Ok. Poi dopo la paga era pochissima. Mia madre mi ha tenuto a casa perché era vedova purtroppo. e ho cominciato così una trafila di muratori. perché se andiamo a parlare del Bosco della Salicetta, vede che cambia. Per bacco. Lì sono state fatte 80 case. Sì. Poi finita questa storia, perché dopo questa cooperativa si è sciolta, ognuno è andato per conto suo, ho cominciato a fare il vero muratore, quello con la cassuola, il mattone, ed è stato in giugno del 57. Facendo queste cose, lei sa che negli anni la non c'era l'antigelo. Assolutamente no. Quindi quando eravamo nei mesi invernali, che allora nevicava, veniva freddo, non è come adesso che è estate, cosa faceva il muratore? Andava in disoccupazione. L'occupazione era circa di 100 giorni, non ti davano di più, ma a non lavoro erano anche di più i giorni. Quindi il muratore si dedicava spesso e volentieri, si associava con dei norcini, i cosiddetti macellai, di me che andavano a casa del contadino, o da chi aveva il maiale, e andavano a fare la macellazione. Certo. E stavano in giro dal mattino alle 6 fino alla mezzanotte, perché era un avvenimento fare questo. E allora anche il muratore, che non aveva lavoro, chi aveva voglia di non stare sempre all'osteria, andava a casa con questo norcino e imparava a fare qualcosa. Perché allora c'erano le cotiche che si macinavano a mano, non con la macchina elettrica. Si tagliava tutto a coltello? Tutto a coltello, a punta di coltello. Ma era proibito perché doveva fare il garzone così. Facevano le cotiche tante, disosso, tirava la carne dall'osso, fava la coppa di testa, il paiolo dei cicciolici, pensava il proprietario, perché se li strinava, se li bruciava, e bloccava i suoi. Quindi, ecco, ha cominciato qui. Poi dopo, aveva lasciato lì sta roba, perché si cresce, si arragasse così. E ho fatto una società con i miei datori di lavoro. Eravamo molti amici con una squadra avversa di noi. Ah, perché c'erano anche le squadre di Norcini che... Si capisce, come anche dei muratori. Sì, ok. Pur essendo due squadre diverse, eravamo sempre assieme. E qui nacque, qui nacque questa cosa, che dalla parte di là c'era un Norcino, che il papà era un Norcino anche lui. Dalla parte di qua c'ero io e un mio socio, che lui aveva ancora un pochino più, ecco, dimmi che l'aveva fatto ancora meglio. E ci sfidavamo. Abbiamo cominciato a fare una cooperativa, per modo di dire. E ammazzavamo 15, 16, 18 maiali all'anno, più qualche amico che ci dà. E da lì è nata questa storia, che io non sapendo niente di maiali o poco, sapevo macinare poche altre robe. Quindi andavamo nei porcilli per tirare fuori il maiale da dover fare le robe, nessuno ci andava. E chi ci andava? Ci andava Giorgino. Mi sono fatto avanti, da qui pian piano, invece di essere l'ultima ruota del carro, ho dovuto essere il timone del carro. Il capitano della squadra. Il capitano della squadra. Senta, Giorgino, ma mi viene in mente questo. Lei parlava di tradizioni, quindi, insomma, di allevare anche il maiale in casa. Ma come erano i maiali di una volta? Allora, lei sa che i contadini avevano le scrofe, normalmente, è vero? Sì, sì. E le scrofe avevano i suoi piccoli e il contadino decideva di tenere un maiale, due o tre, secondo le esigenze familiari, perché c'erano anche delle famiglie da 30 persone, non da tre come adesso. E prendevano indietro due o tre latoncelli, due o tre latoncelli, sono quei maialini che smettono di tettare il latte. Sì, ok. E veniva fatto lo sversamento e venivano messi in un porcile a sé. Questi qua veniva dato, il primo intervento, quando si mettevano il latte, si dava la crusca, si si dava un pochino di farina gialla, un pochino di osso e si allevava il cosiddetto, in dialetto, scurson. Ascurson era il maiale magro, da 60-70 kg. Eh, certo. Questo qui arrivava i 60-70-80 kg in agosto, super giusto. Sì, ok. Da lì, quando si era il mese di settembre, si cominciava a anticipare, a dare qualcosina in più della crusca, delle lavature dei piatti, delle zucche. Come le lavature dei piatti? Eh sì, il contadino, quando lavavano i piatti, il cemento, in dialetto, sulla risa, l'azot, l'azot non è altro che il lavaggio dei piatti quando mangiavano. Non c'era poi mica il detersivo allora. Non c'era mai il detersivo, ma si capisce che c'era mai il detersivo. Il problema è che dopo aggiuntavano le pelle delle patate, le zucche, quelle che fanno le romelline, il zucchetto, e queste qui venivano volite, fatto il mangiare, qualche cosa di erba medica le davano anche un pochino, non tanto di erba medica. E lo davano finché il maiale era cinque anni, poi smettevano questo qui e cominciavano a aumentare la farina gialla, farina d'orzo. Quando arrivavano là a ottobre, novembre, che il maiale era già sui 120-130 kg e dicevano noi prima di dicembre, facciamo un'ipotesi, dobbiamo ammazzare l'ultimo mese o gli ultimi 40 giorni, gli davano non da mangiare, gli davano tipo polenta, farina gialla. E orzo che c'era lì, perché loro non c'era la soia, e andavano, che il maiale cresceva anche un chiletto al giorno. Un chiletto al giorno? Sì, sì, perché il maiale che mangiava bene, esatto, che mangiava bene, davano a mangiare il patto caldo, proprio chiacchierava quando il maiale faceva così. E lei, quanto il maiale che aveva poco spazio da girare, che mangiava, si coricava, dagli 800 al chilo al giorno. Quindi lei capisce che un maiale di 150 kg a diventare 2, 2, 20, 2, 30 era... Era un attimo, perché... Era quel mese 40 giorni prematuri alla macellazione del maiale. Ok, ma c'è l'azione che si svolgeva allora in due momenti, prima e dopo Natale anche, no? Sì, sì, sì. Prima delle feste e dopo le feste, quindi... Prendiamo il contadino per esempio. Sì. Ne faceva una prima delle feste e una dopo. Certo. Le feste vuol dire Natale e dopo Natale, perché lì c'era anche... non c'era mica l'olio d'oliva, sa? Ah no? E loro bisognava fare, per fare l'olio d'oliva, lo si teneva il lardo del maiale. È vero, è vero, è vero. A tutta lunghezza, dal collo fino al prosciutto. E poi questo qui veniva salato, appeso e la massaia tutte le volte che doveva fare il ragù, dava là una pettina di roba, la pestatina e poi dopo si faceva il ragù. E poi dopo si faceva il ragù e si faceva... Poi l'estate diventava arancido questo. È vero, è vero, è vero. Ma io l'ho fatto a casa dai miei nonni, perché è casa mia madre, povera, te lo ripeto, eravete sempre in giro a lavorare, prendevi quando non c'era nessuno, lo andavi a rubare sopra la caposcala, tagliavi via una fettina, magari c'era il fuoco acceso, prendevi uno stecco, gli facevi la punta, gli sfizzavi il lardo, andavi sulla braccia come un crostino in mano, ferma, e poi ogni goccia che stava per cadere, la mettevi sul crostino e andavi a tocciare. Certo. Queste erano le robe che da bimbo ho fatto io. Posso chiederle, visto che lei non è una signora, quando è nato? Signor sì, il 6. 4.939, la classe di ferro la chiamava, ma va là, 1939, insomma voglio dire, di ferro ce n'è, perché di lavoro, hanno fatto un bel po'. Senta, ma oggi ci facevo caso, mentre lei parlava, perché logicamente sono i modi di dire, della tradizione appunto, lei è di Solara di Bonporto, quindi provincia di Modena, siamo in pianura dove c'è la nebbia e dove, quando si faceva la festa al maiale c'era la nebbia, no? No, c'era la nebbia, volavi la bicicletta e non cadeva la nebbia che c'era. È vero, è bella questa idea. No, mi viene in mente questo, lei parla di uccidere il maiale, no? Si capisce. Però era un atto che si doveva compiere, poi si fa anche oggi nei macelli. E con serietà lo si doveva fare, eh? E con rispetto anche per l'anemale. E con rispetto, più che serietà, con rispetto, ho detto bene. Certo, allora facciamo una cosa, noi abbiamo iniziato in questa puntata di Buone Cose con Giorgio Artioli, Giorgino, a parlare di tradizioni, ma c'è ancora tanto da dire, no? Perché dobbiamo arrivare anche a come si lavora poi questa carne. Si capisce. Ok? Allora, noi ci fermiamo qui perché siamo giunti alla fine di questa prima puntata del 2024, prima puntata originale, doc, del 2024 di Buone Cose. Io ringrazio per il momento Giorgio Artioli. Non scherzo a lei, è un piacere ricordare queste cose. E lo ritroviamo all'inizio della prossima puntata. Va bene? Benissimo. Quindi grazie per averci seguito e torniamo naturalmente fra sette giorni con Buone Cose. Vi aspettiamo. Grazie a tutti. Benvenuti dunque a Buone Cose, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati la scorsa settimana con il nostro ospite Giorgio Artioli, norcino, nato muratore e diventato norcino, con tanta esperienza, tanta tradizione e tante cose da raccontarci, tante buone cose che passano inevitabilmente se si parla con un norcino dalla festa che si faceva al maiale, una volta nelle case di campagna, nelle case coloniche, che al di là della fine del maiale era una vera e propria festa, Giorgio, per tutte le famiglie, per tutte le persone che partecipavano, perché non si era solo con il gruppo ristretto del contadino che c'era lì, ma diventava proprio una vera e propria festa, no? Una volta si cominciava alle 6 e si finiva a mezzanotte, perché era una festa, oltre al lavoro che era lento, perché era manuale, tutto manuale, ma c'erano anche delle sorte, perché il macellaio e il norcino era anche un bevitore, molte volte si andava a casa zoppi, in bicicletta, e col tabarro anche? Questo stiamo parlando già negli anni 50-55, perché prendevano, a me sembra di vederli queste persone, in bicicletta col tabarro. E che cosa si faceva allora con il maiale, quello che produciamo anche oggi, no? Perché voglio dire, il prosciutto, il salame... Che bella domanda che è questa, in modo diverso. Mi perdoni, io sono convinto che oggi come oggi, con tutti i disciplinari che sono stati creati per tutelare il prodotto, ma per tutelare anche chi mangia oggi, no? La lavorazione industriale con le norme igienico-sanitarie che sono veramente... Io ho provato una volta ad andare a fare i salami, ho dovuto fare un corso prima per poter entrare nel laboratorio. Igiene. Vestito alla perfezione che non c'era, via l'anello, via l'orologio, via tutto. La cuffietta. La cuffietta in testa, il copribarba, tutto veramente per dire, e poi voglio dire, insomma, in ambienti... Questo è nell'industria, è sicuramente anche così. E forse era così un po' di meno, ma anche una volta. Tu, quando andavi a casa dal contadino, non eri altro che ti dovevi tenere pulito le mani, avevi un grembiule, ecco il grembiule, che io avevo molti capelli, magari portavo un beretto, un purillo, una volta che era un purillo. Oggi invece ci sono queste norme, per fortuna, di noi che siamo poi consumatori alla fine, no? Sì, è anche diversa la carne, è più protetta. È più protetta la carne, è vero, è vero. Sì, sì, perché... E i maiali di una volta e i maiali di oggi? C'è differenza? Molta differenza. Lei considera che il maiale di una volta lo si ammazzava per due ragioni, penso io. La prima era quella del lardo, che abbiamo accennato alla volta precedente. Certo, che rimaneva e era... Rimaneva appesa perché doveva essere un olio d'oliva della famiglia. Secondo punto doveva essere, per fare quei pochi salami, il prosciutto, la coppa e la pancetta, perché negli avventi, quando si immieteva il grano così che venivano a casa, i contadini avevano questa abitudine di fare gnocco fritto e un po' di affettato e la bottiglia dell'ambrusco per chi lavorava. Ma che brutte abitudini! Erano bellissime, che si sono perse, sono messe da un'altra parte. E la qualità della carne, qui partiamo, era molto diversa, perché si faceva il maiale per il grasso. Quando ero di 9-10 centimetri, la gente festeggiava, diceva, ma guarda che bella ora. Adesso si guarda il magro, il maiale di 200 kg una volta ci venivano 40 kg di lardo, il maiale di 200 kg adesso ce ne vengono 18-20. Poi una volta, in un maiale, non è che si faceva un maiale di 200-240 kg, ci venevano 25-30 salami di scombe così poco. Perché? Perché intanto salvavano il prosciutto, salvavano il prosciutto di spalla, salvavano le due coppe, salvavano le due pancette e delle volte anche il filetto, mi dica lei, dove prendevano la carne da fare i salami. Tutti rifilliture del prosciutto, rifilliture della coppa, rifilliture della pancetta, rifilliture della spalla, del prosciutto di spalla. Il salami è così, perché tu salvavi tutto. Adesso invece, compri maiale, guasti tutto. Dicono, con un maiale da 180 kg ho fatto 70 kg di carne da salami. E per forza. Come ci metti il prosciutto alla spalla, lo compri due pancette, ti metti tutto, non c'è lardo. I salumi oggi, ma si riescono ancora a fare comunque in maniera artigianale, perché noi abbiamo conosciuto Giorgio Artioli, Giorgino, insieme a Davide Fantinati, il nostro youtuber, che ci ospita per questa nostra chiacchierata, tra l'altro. E vediamo insomma che sul canale YouTube di Davide lavorate insieme anche, riuscite ancora oggi a produrre in maniera artigianale. In modo diverso per tante robe, perché poi, vi ripeto, farlo a mano e in compagnia di Davide o qualcun altro mio amico che ho, è un conto, andare a livello industriale. Certo, no, no, per bacco, per bacco. Noi prendiamo la carne, silta. Silta cosa vuol dire? Che prendo del prosciutto, prendo della pancetta, prendo il dombo, prendo un pezzo di coppa, segliamo, la segliamo per bene, segnere vuol dire non lasciare bianco e filamenti di nervetti attorno. Poi, una volta fatto il magro, pesiamo il magro, mettiamo una percentuale di pancetta, che è il bianco, e facciamo la marcellazione. Mettiamo le nostre conce dovute, senza mettere nessuna, le conce dovute cosa sono? Sale, pepe, noce moscata, lambrusco e aglio, chiuso. E nulla di più. Qui non si ci mette nient'altro. Quelli che faccio io, o quelli che faccio, diceva Davide, se vengono buoni, ce li affettiamo e mangiamo. Ma che differenza c'è tra un salame buono e un salame non buono? C'è tanta differenza. Dunque, per fare un salame buono, sono 4-5 gli ingredienti, non sono 2.000. Prima, scelta, la carne, che deve essere doc, secondo il sale, perché tutte le altre conce che mette è perché piacciono a lei. Il sale è quello che serve per la conservazione, giusto? Il sale è quello che serve per la conservazione, quindi tutto quello che mette perché voglio che abbia quel palato lì, assiugatura del salame e conservazione del salame. la sala apposta per l'invecchiamento, per far sì che il salame venga ad hoc. E perché un salame venga in un ambiente giusto, deve esserci la stagionatura giusta. Questa è una parte degli ingredienti pari al sale e alla carne. È molto difficile fare il salame, tutti lo fanno, ed è giusto che sia così, ma tutti non hanno il posto per fare la stagionatura. Lei ha detto anche un'altra parola, perché adesso con le novità che arrivano, il budello, ma di quelli originali, cioè anche quello del maiale di cui non si butta via niente, pure ci sono anche quelli sintetici. Si capisce, questa è una bella domanda perché, andiamo un attimo indietro, quando si faceva, uccidevo il maiale a casa, quando dicono così, con un telo tenevi i budelli. Adesso io prendo il budello di maiale. Nel caso del cotechino cambio la ragione, perché una volta si metteva nel suo budello, come sarebbe regola fare anche questo. Però se io faccio il cotechino, col budello di maiale, a me non riesce mai che il budello non si rompa quando bolli il cotechino. Ah, ok, quindi qualcosa di un po' più… Il cotechino avrebbe fatto quel budello che fa tipo fagiolo. Lo budelli molto, non stretto, molto largo, lo schiacci con una mano, in modo che quando lo vai a bollire la cotica aumenta di volume e non rompe il budello. E non rompe il budello, sì. Ma questo io ho successo rare volte. Allora compriamo il budello di mucca. Ok. Che questo budello di mucca fa il medesimo servizio, il cotechino viene un pochino più piccolo perché è in dritto, perché il cotechino di maiale è anche in chile 2, anche in chile 3. Questo diventa più piccolo e quando lo bolli non si rompe. Ok. Ecco, l'unica differenza che metto io è il budello, ma non sintetico. Senta, faccio l'ultima domanda perché poi magari avremo modo di incontrarci ancora per scoprire. L'ultima domanda è questa, Giorgio, ma qual è il salume che dà più soddisfazione al norcino? Il prosciutto? Indubbiamente. Indubbiamente uno dei prodotti che dà più soddisfazione per me sono due, tre anche. Il salame per primo perché il salame ti fa dare tanta attenzione, perché sei sempre preoccupato finché non metti il coltello dentro e lo guardi. E non vedi come è venuto. E non senti il profumo. Esatto, sì sì sì, ma lo vedi però non lo senti. Quindi l'altro è la pancetta. Sì. Se le dassi la cotica, se le tiri via la cotica, beh, c'hai un pensierino in meno, perché hai modo di stringerla meglio, perché la cotica è dura e nervosa. Poi la cotica, non è che quando si secca, tenda proprio ad andare sempre vicino, tenda ad aprire. Quindi è la fuga, quindi è la pancetta. E se abbiamo un'alternativa alla coppa. Sì. Ma la coppa ti dà meno pensieri perché è un muscolo, è un pezzo intero. Tu la metti in mora, se prendi la mora vuol dire gli aromi che tu gli metti. Ok, sì. Lo metti a bagno per 7-8 giorni, quello che è, quello che tu pensi che vada bene, è un muscolo. Se tu fai attenzione, quando è in mora, di tenerla girata, che non si secche la pelle perché si secca dopo, non tira più il sale, e li puzza, hanno degli odori. Quello è un muscolo e ti dà molto meno i pensieri. Ma la pancetta del salame, si capisce. Io salo anche il prosciutto ancora, lo salo sul tagliere, quindi la cosiddetta saladora. Salo anche quello lì, anche quello lì, l'abbiamo fatto anche con Davide. Sì, 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 ho visto, ho visto, ho visto. È stato un risultato docche, è stato bravissimo. Allora, Giorgio, io intanto la ringrazio per essere stato nostro ospite in queste due puntate e averci raccontato un po' di sana tradizione di una volta, dei tempi che furono, ma che con le nostre immagini e con la lavorazione che abbiamo visto anche all'interno di stabilimenti produttivi industriali di oggi, lavorazione fatta comunque da artigiani, assunti dall'industria, perché comunque per creare queste cose anche a livello industriale serve la mano dell'artigiano, serve l'occhio, serve l'olfatto, serve tutto. Quindi grandissimi professionisti che oggi appunto lavorano la carne e la carne del maiale in particolare, di loro vi abbiamo mostrato alcune immagini. Grazie dunque a Giorgio Artioli, Giorgino, come dicevamo, per essere rimasti insieme a noi. No, grazie a voi. Ci troveremo, ok. Voi state lì, abbiamo parlato di tradizione, abbiamo parlato, ma continueremo naturalmente appunto a farlo, qui a Buone Cose, piccola pausa, torniamo tra un attimo. Grazie ancora Giorgio. Grazie a voi Arti e grazie a Davide. Grazie a voi. Grazie a voi.